La pesante sconfitta subita dal Brindisi e Martina non è andata giù ai tifosi della Curva Sud di Michele Stasi, ma ai sostenitori adriatici in più in generale. Alla ripresa degli allenamenti, un gruppo di Ultras, circa una trentina, ha contestato squadra e staff tecnico. In particolare, i supporter presenti allo stadio hanno criticato l'operato del direttore sportivo aldosensibile. Sono volate anche parole grosse, ma non c'è stato l'atteso chiarimento. L'unico ad avvicinarsi al gruppo di contestatori è stato il capitano Roberto Taurino. Qualcuno ha anche chiesto la dimissione nel DS Biancoazzurro. Nei prossimi giorni, intanto, potrebbe esserci un incontro tra la proprietà e una delegazione di tifosi per provare a rasserenare gli animi in vista della prossima e importante gara interna dei Biancoazzurri. La Corva Sud di Michele Stasi, infatti, ha chiesto ufficialmente a un incontro a proprietà, staff tecnico e dirigenti per un momento di confronto, per capire di più dove questo Brindisi vuole andare e vuole arrivare.